segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te perché deve coprire un clamoroso insuccesso con una clamorosa affermazione il dato di fatto è che ci sono 5.000 soldati russi nella parte occidentale del territorio occupati che stanno per essere chiusi in una sacca dall'esercito d'ucraino e voglio vedere come intendono portarli fuori a liman in particolare la realtà è che i russi hanno avuto perdite clamorose 50.000 morti migliaia di mezzi distrutti non riescono a far volare niente perché come volo qualcosa gli ucraini glielo tirano giù per cui deve nascondere tutto questo enorme insuccesso di una guerra che lui ha provocato scegliendo appunto di fare questo dietro la retorica magniloquente di adesso sono tornati nella grande casa russa e staranno sotto la nostra protezione e quindi anche quando minaccia perché ad un certo punto dice li difenderemo con ogni mezzo no questi nostri cittadini che hanno scelto di stare con noi poi invece diciamo anche sulla tipologia di referendum qualcosa ci sarebbe da dire però dice questi vogliono stare con noi sono cittadini russi e noi li difenderemo con ogni mezzo e di nuovo quindi c'è la minaccia di cui tanto si è parlato che la minaccia nucleare armi nucleari tattiche impossibile possibile plausibile allora rispetto a questo bisogna esercitare la massima dissuasione questo è il punto e la massima dissuasione si esercita spiegando appunto che qualora ci fosse l'impiego di armi nucleari questo non resterebbe senza durissime conseguenze anche di carattere militare senza io credo che gli americani abbiano specificato questo hanno specificato che si può rispondere fino arrivare allo stesso livello che non vuol dire che si sceglia di fare questo giustamente la dissuasione perché funzioni lascia un margine di ambiguità nel tipo di reazione ma è questo il punto deve essere fatto chiaro la russia che non c'è dubbio che sarebbe una ritorsione molto grave è l'unico strumento che funziona l'arma nucleare è dissuasiva nel momento in cui putin decidesse veramente di usare un'arma nucleare si comporterebbe sarebbe un crimine come l'umanità contro l'umanità appena sotto l'olocausto per darci un'idea perché non si possono fare queste cose e quindi si esporrebbe una ritorsione quello che ha detto lui poi ci dice chiaramente che putin non è credibile come interlocutore lui adesso potrà anche dire che vuole trattare trattare su che cosa no anche perché lui dice adesso si può fare la pace a partire dal fatto che noi non discutiamo più della annessione di questi territori allora di cosa stiamo discutendo ci vediamo per fare che cosa per berci un caffè al al nuovo cioc così magari qualcuno ci lascia le pelle le reazioni le reazioni